No all'autonomia differenziata, raccolta firme per un piano di occupazione pubblica, riforma delle pensioni per garantire il potere d'acquisto agli anziani, impegno per una sanità pubblica in grado di rispondere ai bisogni della popolazione. Sono questi i capisaldi dell'azione della CGL, oggi riunitasi a Sapri in vista dell'Assemblea Nazionale a Roma il prossimo 7 ottobre. Un'occasione da parte del sindacato anche per lanciare un già chiuso sullo stato dell'ospedale di Sapri e sul fatto che il direttore generale dell'Asla di Salerno, Sosto, invitato al tavolo e però assente, continui a sottrarsi al confronto. Non dobbiamo pensare che abbiamo messo la pezza ai bisogni nasciti, sperando che il ministero dimenti e non dimenti la pezza. Non dobbiamo pensare o sperare che questo direttore generale che purtroppo si sottrae al confronto è quello che poi ci risolve il problema. E' di sempre, è già scritto, vorremmo capire cosa, come, e se ha scritto bene, dargli pausa, bene, e se c'è da correggere qualcosa, correggere qualcosa, ma farlo insieme a chi ha le competenze e le capacità. Ma proprio a Dio, inguattando le carte, nessuno ha visto di tutto. Diversi gli spunti emersi nel corso della giornata, ad intervenire moderati dal responsabile della Camera del Lavoro di Sapri, Mimmo Vrenna, il segretario della CGL Salerno, Antonia Padula, quello dello SPI CGL di Salerno, Arturo Sessa, il segretario regionale, Franco Tavella, il rappresentante di zona dello SPI CGL, Gerardo Triani, che ha lanciato l'allarme sulle difficoltà degli anziani oggi, e il direttore sanitario dell'ospedale di Sapri, Claudio Mondelli, che ha rassicurato sul lavoro svolto per recuperare le criticità esistenti nel presidio sanitario. A prendere la parola anche il presidente del comitato di lotta per l'ospedale, Luciano De Geronimo, che ha chiesto maggiore attenzione ai vertici sanitari e regionali. È possibile mai, ha detto, che abbiamo dovuto fare otto manifestazioni per il punto nascita prima che chi di dovere prendesse posizione? La CGL ha mostrato attenzione verso le problematiche sapresi, visto che già ad agosto era stata in massa su questo territorio. A chiudere i lavori, infine, il segretario nazionale dello SPI CGL, Claudia Carlino. Le persone cominciano a soffrire, cominciano a sentirsi sole, ed è necessario che ci sia un'attenzione rispetto a questo disagio, a questo grande disagio, e delle politiche che riescono a far sì che le persone abbiano quel riconoscimento dei diritti, che possano vivere serenamente la loro vita, che abbiano una sanità che dia le giuste risposte, una sanità pubblica soprattutto, un livello di welfare che dia tutte le occasioni per poter stare bene. Quindi parliamo anche di diritto allo studio, ma parliamo anche di una visione di un sud che possa essere un'opportunità per l'intera nazione e non un peso, un fardello, una parte da dover tenere lontano. Abbiamo bisogno appunto di politiche, di politiche che invertono questa tendenza e che abbiano grande attenzione per le persone più fragili, le persone più isolate, per le persone che vivono nelle periferie, per le persone che vengono spesso dimenticate. Per questo noi chiediamo che ci sia un quanto riconoscimento, un'applicazione di quella Costituzione, che facendo delle proposte anche chiare rispetto a quello che già in quella Costituzione viene detto, il rispetto per la persona, il rispetto per la salute pubblica, l'uguaglianza, la giusta opportunità per tutti. Ma soprattutto chiediamo anche che ci sia un'attenzione e che ci sia la possibilità di avere i soldi, di prendere i soldi dove i soldi ci sono, per dare opportunità a chi non ha soldi, chi sta soffrendo, pensiamo alla condizione per esempio degli anziani.